Ciao a tutti qua da Robi2394 Oggi eccezionalmente per un mio iscritto Proverò a fare il commento di quello che faccio in diretta su Final Fantasy IX Soltanto nelle parti, diciamo, che possono servire principalmente Andiamo a vedere quando rincontreremo il boss oppure dopo a un certo punto Ok, ma tuoi legato con l' supervillante? La volev 좋아요 La volev sellazione.. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Questa boss fight in pratica dobbiamo utilizzare soltanto Vivi, abbiamo 3 turni se ci va bene di culo, perché dopo 3 blizzare il mostro morirà arrivato a questo punto del gioco. Quello che dobbiamo fare è con Jitan rubare, con Vivi blizzare, Daga installo. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.